Il pareggio per due a due tra Lazio e Monza lo definirei un pareggio bello maschio, comunque sono state tante razioni, tanta vigoria in campo, soprattutto in ultimi minuti, un po' Lazio ha perso un pochino la testa ma semplicemente perché partendo un pochino dalla classifica, con le partite di questo weekend e soprattutto con il recupero della partita della Fiorentina, beh sia la Fiorentina che il Napoli quando dovesse vincere i partenopei in questa giornata si farebbero ancora più sotto a Lazio quindi diciamo che è un punto molto più positivo per il Monza che per la Lazio soprattutto perché il Monza ad ora non ha più nulla da chiedere a questo campionato perché si assesta in quella metà di classifica che ora insomma squadre in quel range con le 20 squadre si divertono semplicemente a rompere le uova nel paniere quindi a fare il dago della bilancia per le squadre che le vanno ad affrontare. Ma comunque mi voglio concentrare sullo spunto che mi ha suggetto questa partita riguardo gli allenatori della Nobel Vag, Shabby Alonso, Palladino, Motta, perché fondamentalmente questi allenatori sebbene siano comunque allenatori diversi, che giustamente non sono tutte copie, una cosa che gli accomuna è questo ritorno in parte al calcio totale soprattutto dal punto di vista di qualche posizione magari per Motta più che altro sono magari i calafiori come i difensori centrali che rompono il paniere, nel barriere Verkusen vi è Frimpong sulla destra che taglia il centro quasi come un attaccante il Monza invece è molto più mobile abbiamo anche visto in più partite col Pani magari essendo essere schierato come largo a destra in un 4-3-1 quando lui fondamentalmente un centrocampista centrale, una mezzala, in quel caso lui faceva un po' il regista largo della squadra decidendo insomma ad entrare sul sinistro per decidere poi alla giocata e secondo me è questo il motivo per il quale appunto allenatori come Shabby Alonso, come Motta, come Palladino sono agli unioni della cronaca e voglio anche riportare una notizia che non è insomma recentissima ma non è neanche vecchissima che il Benfica è sulle orme di Palladino perché come si sa il tecnico del Monza ha il contatto di scadenza nel 2024 soprattutto in un periodo che potrebbe cambiare qualcosa al Monza, potrebbe cambiare la proprietà di Torro di Galliani, potrebbe essere messo in discussione quindi Palladino è un allenatore che andrà in scadenza tra veramente un mese e mezzo, poco meno di due mesi e per Palladino si sono parlato, si sono parlate, si sono annunciate, si è sentito parlare insomma di diverse squadre tra quelle anche il Torino ad esempio che appunto anche il Torino dovrebbe sostituire Motta, scusate Juric ma ovviamente si è fatto appunto sotto il Benfica e quindi anche un eventuale interesse a parte il Torino se non sono quanti trovi davanti, un Benfica potrebbe un attimino passare in sordina facendo un pochino il riassunto, il Benfica è allenato da Schmidt che ha un contatto fino al 2026 ma c'è una frattura tra dirigenza e allenatore soprattutto per l'utilizzo, per il fatto che non abbia saputo ben portare avanti, ben sviluppare alcuni giovani tra i quali vi è Marco Sonardo il giocatore che a inizio del 2024 è stato accostato prima alla Lazio nelle strade 2023 e poi nel gennaio 2024 anche a Roma sembrava che fosse lì il giocatore pronto per trasferirsi a Roma un po' insomma si è fatto sotto il Benfica e insomma tutte le storie sono cambiate ovviamente il Benfica è una squadra che ha tanti giocatori interessanti tra i giovanissimi e tra i giocatori un po' più anziani utilizzo un 4-3-1 quindi il modulo che adesso utilizziamo è Palladino e appunto in vista di una situazione ipotetica di Schmidt potrebbe essere Palladino l'erede del tecnico tedesco e non mi stupisco non mi stupisco che è un alleatore della Novel Vag che fa della sua filosofia il bel gioco creato di movimento ma che comunque i risultati al Monza ne ha portati tra virgolette pochi diciamo così semplicemente per il discorso che purtroppo i limiti del Monza sono quelli io vi ricordo soltanto che in difesa hanno Caldirola e Donati sulla fascia Birindelli che comunque è al primo anno fondamentalmente che sta giocando un po' di più hanno Ciuria che Ciuria io lo conobbi quando era nell'Under-19 con Iotti, con Gollini, con tutti questi qui con Voltani, insomma ci sono veramente tanti ormai alcuni di loro anche scomparsi anche il mitico Mario Piccinocchi ex giocatore della primavera del Milan centocampista centrale Ciuria appunto in quel periodo militava se non mi ricordo male nello Spezia ma comunque era giovane ma faceva riserva cioè nel senso comunque il Monza ha giocatori che magari non sarebbero neanche titolarissimi in Serie A al di fuori dell'ecosistema Monza quindi Palladino sta facendo un grandissimo lavoro veramente ottimo ha favorizzato un Di Gregorio in modo clamoroso infatti Gregorio sembra che sia nel mirino della Juventus e quindi questo gioco bello che comunque vincola in parte Palladino avere dei giocatori con certe caratteristiche secondo me se Palladino dovesse mantenere quella struttura mentale non dovesse pagare lo scotto del cambio di categoria quindi da una Serie A col Monza a una prima divisione a una Serie A del Portogallo con il Benfica dove ti giochi altri dove hai altri obiettivi la Champions, il campionato beh secondo me Palladino potrebbe veramente fare lo step successivo ed è qui che magari ancora in Italia manchiamo cioè nel senso ricordiamo sempre che Palladino è stato messo lì per necessità al netto che poi già a dirigenza era convinti Palladino come idee ma comunque Palladino si è trovato allenatore in prima squadra per necessità non per vera e propria scelta e qui manchiamo noi manchiamo forse di lungimiranza cerchiamo sempre il nome un pochino più altisonante e vi dico anche un'altra cosa ipotizzando che Motta va dalla Juventus e Palladino va dal Benfica io adoro avere più adatto Palladino al Benfica che Motta alla Juventus perché il Benfica ha una filosofia societaria di squadra che si sposa con quelli di Palladino ma l'attuale filosofia della Juventus non si sposa con l'essere diciamo così di Motta l'allenatore deve sposare una filosofia societaria ma anche la filosofia societaria deve adattarsi all'allenatore quindi vuoi una squadra offensiva fatte di bel gioco di cambi di posizione vabbè ok Motta e Palladino vanno bene ma se tu vuoi una squadra un po' percigna non vai su Motta o Palladino o Xabi Alonso perché non sono gli allenatori adatti quindi io stai felice se Palladino facesse lo step up in carriera ovviamente e sarei molto curioso anche ma ripeto ad ora mi sento di fare i complimenti al Monza di fare i complimenti a Palladino e secondo me anche l'anno prossimo vedremo la vera Lazio di Tudor perché in questa partita ricordiamo che Tudor la Lazio l'ha pareggiata per un erroraccio di Donati altrimenti si chiama anche di perderla ah dimenticavo nel Monza lo stesso Djuric che per quanto a me possa non piacere come come attaccante ha voglia sa colpire di testa è uno che battaglia e mi sbilancio Djuric è un attaccante fuori dal tempo dopo i miei video su TikTok dove ho fatto insomma quelle classifichine quelle quelle trial list io avevo definito nei commenti di Tudor un attaccante fuori moda nel senso che era precursore della moda dell'attaccante moderno ecco perché magari la Juventus con Ancelotti ancora rinchiuso a quel periodo nel 4-4-2 di Sacchiana Memoria insomma ha fatto difficoltare a catalogare a inquadrare Henry fatto che poi Henry è andato all'Arsenal lì l'hanno messo come punta e ha fatto quello che ha fatto Djuric di conto è il contrario di Henry se Henry fosse scusate se Djuric fosse vissuto nel tempo di Henry sarebbe secondo me stato uno degli attaccanti migliori al mondo perché in quel periodo andavano attaccanti ad esempio come Jan Koehler il centroavanti cieco che se non ricordo male era alto 2-2 metri 0-2 e andò anche alla Borussia Dortmund quindi voglio dire se Djuric fosse vissuto 15-20 anni fa se è vessato un top attaccante fatemi sperimenti qui sotto cosa ne pensate voi sia tifosi da Lazio che tifosi del Monza vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi